Musica Eraclito, filosofo greco vissuto dal 535 al 475 a.C. diceva Pantarei, che tradotto vuol dire tutto scorre, come sangue insostituibile e non si riproduce il laboratorio. Donare sangue significa aiutare chi soffre. Anche tu un giorno potresti averne bisogno, non dimenticarlo mai. E poi perché donarlo solo una volta, se ogni volta puoi salvare una vita? Si è svolta anche quest'anno la cerimonia di iniziazione dei novelli donatori di sangue, la loro presenza in questa fredda mattina di gennaio, in presidio ospedaliero di Castel di Sangro, è un tacito invito alla donazione rivolta a tutti. Il filmato pubblicitario che state vedendo, realizzato a cura dell'Associazione Donatori Sangue e Alto Sangro, venne in parte girato nella sede dell'ospedale civile di Castel di Sangro, adibita a raccolta di sangue. Il servizio entrò in funzione nell'anno 2000 e nei primi anni furono raccolte in media 130 sacche di sangue l'anno, grazie anche all'impegno costante dell'associazione. Nel 2006, con l'ospedale in crisi, anche la raccolta sangue subì un decremento e le sacche furono appena 80 fino a giugno, mese in cui il servizio fu soppresso. Domenica 21 ottobre è giunta a Castel di Sangro l'unità mobile di raccolta sangue della regione Abruzzo. La giornata è fredda, i primi fiocchi di neve stanno cadendo. Un po' il vento gelido, un po' la mancanza di entusiasmo da parte della popolazione per il loro ospedale che sta chiudendo impedisce una buona raccolta. Alla fine della giornata si contano soltanto 24 sacche. Ci troviamo all'interno dell'Herry Bar di Piazza Pellebiscito perché fuori ci sono quattro gradi. C'è l'automoteca della Croce Rossa italiana che è venuta per accogliere il sangue e in mia compagnia c'è l'assessore Claudio Buzzelli. Un giudizio su questa iniziativa che Domenico Caruso ha rilanciato, appunto convocando questa giornata per la donazione del sangue. Sappiamo tutti quanti che l'azienda sanitaria praticamente di fatto rifiuta le donazioni dell'alto sangue. Ecco, perché succede questo? Ma guarda, mi dispiace ricordare certe cose, però poi la storia e i fatti non vanno comunque dimenticati. Noi abbiamo aperto a costa di enormi sacrifici un centro raccolta sangue, dove il Presidente lo sa benissimo quando era Presidente Nicola Di Sciascio, il Direttore Generale Nicola Di Sciascio. Abbiamo aperto l'emoteca. Nello stesso periodo abbiamo aperto l'emodialisi. Nonostante gli sforzi degli addetti ai lavori, nonostante gli sforzi del volontariato, questi due servizi importantissimi per la nostra zona sono stati, uno addirittura non funziona più da parecchio tempo, quello che mi riferisco al centro raccolta sangue. La dialisi corre serie pericolo per mancanza di personale. Oh, depondenziamento del laboratorio analisi, chiusura del punto nascite, adesso anche la chiusura del reparto emodialisi come lei ha accennato, ma ha significato tenere un ospedale aperto in queste condizioni? No, io non nascondo che mi sto ponendo il problema del significato dei 2 milioni di euro ridati all'azienda per la ristrutturazione dell'ospedale, a che senso se noi molto probabilmente faremo un albergo a 5 stelle, però poi i servizi non sono presenti all'interno. Non ne ho idea, credo che comunque noi non possiamo lasciare nulla di intendato, dobbiamo lottare fino a quando, abbiamo le forze per salvaguardare quella che dovrebbe essere la sanità nell'alto sancro. Io lo dico perché sono abituato a parlare, come dire, chiaro sempre e comunque. Ultimamente ho ritrovato uno spirito battagliere da parte del Presidente dell'Avis, Domenico Caruso, mentre continua l'assenza pesante delle altre forze politiche. Mentre prima, quando bene o male il nostro Presidente ospedaliero funzionava, si sono fatte manifestazioni di piazza. Oggi che stiamo morendo per anoressia, sono tutti zitti perché non bisogna disturbare il manopratore e credo, credo che alcuni episodi lanciati dopo la discussione avuta con il Presidente del Turco e alcuni servizi responsabili politici, penso che fotografano abbastanza bene la situazione. Quindi voglio dire, ora non bisogna disturbare chi governa, si fa per dire. Domenico Caruso, soddisfatto di come stanno andando le cose nonostante le temperature rigide che in effetti scoraggirebbero chiunque? Buongiorno, oggi è una giornata particolare perché, come tutti sapete, abbiamo organizzato questo appuntamento al Castello di Sangro con l'Automoteca, con gli amici della Croce Rossa perché purtroppo il centro raccolta sangue dell'ospedale da qualche mese non funziona più. I donatori hanno voglia di continuare questa attività perché sanno che il loro gesto così umanitario e civile possa salvare la vita umana. Oggi siamo contentissimi perché la risposta sta venendo abbastanza forte, siamo alle 10 di mattina e già 15 donazioni sono state fatte. Quest'automoteca sarà il Castello di Sangro, sta facendo il giro di tanti paesi dove c'è questa difficoltà per la gente di buona volontà a donare sangue e non può accedere alle strutture sanitarie. Sono contento sotto tutti gli aspetti perché lo sforzo profuso in questi giorni sta dando dei risultati. Sono rammaricato e lo ripeto ancora denunciando il fatto che questo tipo di manifestazione poteva essere evitata se l'azienda sanitaria era così attenta a questo problema che reclamiamo da sempre. Io mi riproporò in questi giorni successivi di documentare al Ministero della Sanità questo fatto, al Direttore Generale dell'Azienda. Stiamo predisponendo anche a una sottoscrizione dei cittadini per reclamare i servizi in genere dell'Altosangro e in particolare dell'ospedale. Vediamo come va questa giornata e poi avremo altre occasioni per ripararli.